La Cassazione considera inammissibile il ricorso e conferma il sequestro delle somme sul conto corrente della Fondazione Gian Battista Vico di Vatolla, che lo scorso anno fu coinvolta nell'indagine Vico Nero e relativo sequestro di beni per 1,8 milioni di euro. Nel maggio scorso il Tribunale del Riesame accolse l'istanza presentata dalla Fondazione Vico difesa dall'avvocato Franco Maldonato di dissequestro di Palazzo de Vargas di Vatolla per difumo. Venne annullato quindi il decreto del GIP relativo alla confisca per equivalente dei beni patrimoniali della Fondazione per 1,8 milioni di euro. Il Riesame ritenne che il sequestro doveva essere ridotto solo al saldo del conto corrente. I giudici della Cassazione hanno però dichiarato inammissibile il ricorso, chiarendo che le impugnazioni in sede di legittimità dei provvedimenti adottati in materia cautelare reale sono ammissibili nei soli limiti in cui esse hanno ad oggetto il solo vizio di violazione di legge. Sull'individuazione del regime fiscale applicabile alla Fondazione si tratta di una censura sulla base di un erroneo presupposto, un profilo attinente alla motivazione del provvedimento impugnato, pertanto non ammissibile. Quanto alla ripresa a reddito delle movimentazioni bancarie di cui il contribuente non è stato in condizioni di indicare la loro origine o la loro destinazione, per i giudici il ricorrente omette di considerare che quanto richiesto può essere considerato applicabile ai procedimenti definitivi, ma non nella fase cautelare. Sull'inadeguatezza della motivazione del giudice del Riesame spiegano che, trattandosi di sequestro finalizzato alla confisca diretta e non per equivalente, le somme di danaro sequestrate per essere suscettibili di successiva confisca dovrebbero costituire il profitto. Sul denaro presente sui conti correnti questo potrebbe costituire il frutto del risparmio di spesa derivante dai conseguiti illeciti vantaggi tributari e con il medesimo si potevano effettuare operazioni di carattere ordinario.